Salve amici, fratelli della congrega, è domenica. Il vicino alza la voce, si sta entusiasmando per i goal, i goal che vengono segnati e questa è l'Italia. La mia vicina di casa, la signora Angela, ha preparato da mangiare la sua figlia, sposata da anni con un ragazzo, con un uomo oramai che si chiama come me, cioè Stefano. Settimana lavorativa, arriva la domenica. Dunque gli aerei passano anche la domenica, anzi soprattutto la domenica. Meet the parents, i cognati, le sorelle, gli zii, i parenti, la torta, oppure si arriva subito alla frutta. Allora, partiamo da questo concetto e da questo presupposto. Io sono un esaltato, sono un esaltato, ho questo look leggermente stempiato, però un po' da Fabrizio Corona e da solo mi incorono, perché tanto se aspetto i vostri gradimenti, i vostri apprezzamenti, posso già prenotare il loculo al cimitero e sarà un cordoglio anticipato. Noi intanto siamo attornati da persone irriguardose, ben ti vogliono, ben ti voglio, Fabrizio ben ti voglio, anzi ti dicono ti voglio bene, cioè ti trattano praticamente da minorato mentale. Dovete capire una semplice verità. Il 90% dell'umanità è formata da storpi, da persone che come si suol dire non ci arrivano. Allora rigirano tutte le frittate, sono dei solipsisti, adattano il mondo alla loro immagine e somiglianza, quindi se loro sono allegri, tutti gli altri attorno a loro devono ridere e scherzare, ballare, essere contenti quella sera. Se sono invece tristi accusano gli altri di darsi addirittura al puttanesimo, di essere persone infingarde o persone che non meritano la loro amicizia, il loro rispetto, la loro stima. Allora sono stufo di personaggi così e da quando li ho allontanati la mia vita ne ha giovato profondamente. Io sono ringiovanito, sono ravvivato e voglio parlarvi degli attori, dopo questa prefazione, diciamo così, dopo questo preambolo, voglio parlarvi della possibile, voglio parlarvene anticipatamente, della possibile cinquina degli attori protagonisti che con tutta probabilità saranno candidati agli Oscar, appunto, nella suddetta categoria, una categoria molto sudata, perché per arrivare lì non basta neanche il talento, occorrono tutta una serie di circostanze, come sul dire, come si dire, concomitanti, che possano permettere di essere, appunto, nominati. Allora, adesso ci sdraiamo, ok. Allora, nell'indice di gradimento dei cosiddetti esperti, esperti poi non si sa bene di cosa, il primo posto risulta proprio Joaquin Phoenix con Joker. Sicuramente entrerà nella cinquina delle nomination. Il 27 settembre, se non sbaglio, sarà presentato al New York Film Festival di Irishman di Martin Scorsese, fin della durata di tre ore e trenta minuti, quindi il secondo papabile di nomination sarà Robert De Niro, ok. Robert De Niro non viene candidato agli Oscar, da lontano, 91-92, guarda, lo fu per Keep Fear, il promontorio della paura, sempre, di Martin Scorsese. Poi, come già dissi, come ho già detto, ricevette un'altra nomination, però come miglioratore non protagonista, categoria nella quale potrebbe entrare anche quest'anno proprio con la sua incisiva, ma centrale, interpretazione di Maureen Murray Franklin in Joker, quindi Best Performance... Best Performer... No, Best Performance by Supporting Actor. Robert De Niro, altri papabili, proprio il Papa, sì, sì, proprio Jonathan Pryce. Robert De Niro ha recitato, recitò con Jonathan Pryce in Brasil, Brasil, di Terry Gilliam, in The Warning. Jonathan Pryce, tanto avete insistito che volevate Jonathan Pryce nella parte di Papa Bergoglio, che alla fine è Fernando Maywellez, quello di City of God, questo è un altro ossessionato con la religione, l'ha chiamato per interpretare il Papa, assieme a Anthony Hopkins, nella parte di Papa Ratzinger. Papa Ratzinger, l'anno scorso fu candidato agli Oscar Lady Gaga, Papa Razzi, io invece qui mi spaparanzo, Jonathan Pryce si ama tre, ma anche se dubito che Jonathan Pryce sarà candidato, vabbè ma il ruolo è importante, il Papa, appunto, Abemus, Papa... Poi si fa già un gran parlare della prova di Adam Driver in Marriage Story. Siamo a quattro, manca l'ultimo, la lista si completa con... Molti dicono Leonardo Di Caprio di C'era una volta Hollywood, un film che scontentò parecchio la stampa europea quando fu presentato a Cannes, in America è piaciuto tantissimo, viene considerato addirittura il miglior film di Quanti Tarantino assieme a Pulp Fiction. Leonardo Di Caprio... Ma io metterei invece Antonio Banderas di Dolori Gloria, di Dolori Gloria, credo che Banderas non sia mai stato candidato come miglior attore protagonista, eh sì, non è mai stato candidato al miglior attore protagonista. E insomma, insomma il tempo va. Voi parlate tanto di dignità... Mie cariatidi? Mie cariatidi? Fate tanti carini ma so che vi celate dietro delle maschere. Io invece ho l'espressione da Joker senza trucco. Sì, che volete farci? Posso permettere di fare il gigione? Se voi volete raccontarvela, rimarrete sempre in quest'umana prigione, una prigione di ipocrisie, dove vi spacerete per chissà chi raccontando al prossimo che voi siete persone di rango, ti fate tanto le persone intergenerime, moralmente corrette, ma so che quando andate in giro, adesso non tanto perché siamo quasi in autunno, però a fra agosto, la luna e giro agosto, guardavate tutte queste tuonne e immaginavate di fantasticavate, di fantasie proibite erotiche, di strappare loro il tanga. E sì, ma neanche offriste loro da bere un cocktail e non ballaste con codeste il tango. Come pretendete di togliere a quella donna il tanga? Una donna tanta, se in verità vi dico che io strapperei a voi soltanto la maschera. Questi sono i cinque candidati, saranno Joaquin Phoenix, Joker, Rob Dinole di Irishman, Jonathan Price, The Two Pops, I Due Papi, Antonio Banderas, Pain and Glory, Adam Driver, Marriage Story. Questi saranno e questo è il fisico. E rialzatevi, così. Ok?